ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video ragazzi oggi un grande prodotto molto interessante hai mai pensato di costruire una specie di ups ma non sai come fare o pensi sia troppo complicato e allora torniamo indietro cos'è l'ups ragazzi l'ups non è altro che un una scheda elettronica un apparato elettrico elettronico che ti permette di alimentare per esempio la funzione più conosciuta è quella di protezione del pc ok vendono ups connessi ad pc questi ups cosa fanno hanno internamente una batteria a 12 volt che viene caricata dalla scheda dell'ups quando se ne va la luce la luce di casa la 230 volt si stacca per non perdere i dati sul pc acceso cosa succede l'ups in maniera velocissima si attiva e ti fa funzionare l'inverter interno all'ups e con la batteria tampone bene ragazzi questa scheda che vi ho trovato molto molto utile anche perché costa pochissimo è una scheda ups con due trimmer multi giri di regolazione delle soglie di tensione eccola qui a 1 2 3 4 coppie di connettori a vide per poter andare a cablarla in questo modo qui va la batteria tampone 12 volt qui va fatta connessione positivo negativo un ponte da questo lato se vuoi alimentare il sistema più e caricare la batteria perché questa batteria nel tempo poi ovviamente si va a scaricare perciò tu cosa devi fare bypassi l'alimentazione positiva che questa questo è un alimentatore vedi un alimentatore 12 volt che ti alimenta la scheda ok in più ti carica anche la batteria cosa succede quando questo alimentatore 12 volt 230 volt va a staccarsi e la nostra scheda in maniera automatica nell'uscita che questa qui andrà a cablare il tuo carico ragazzi e in base a cosa vuoi andare ad alimentare una lampada un carico 12 volt un inverter non lo so fai tu cosa succede fin quando la 220 funziona qui abbiamo 12 volt proveniente da dove dall'alimentatore quando l'alimentatore si stacca perché se ne è andata via la luce cosa succede il circuito in automatico cambierà il relè e ti darà in uscita non più questo perché non c'è ma la batteria perciò è un ups a tutti gli effetti due ingressi uno batteria tampone l'altro alimentazione da rete in più con questa genialata potrai anche mantenere sempre carica la batteria ok la batteria si ricarica solo ed esclusivamente quando l'alimentazione è ben cablata ok quando c'è la tensione di rete quando la tensione di rete non c'è qui non ci sarà nulla questo funge anche comunque da doppio contatto vedi uno entra uno esce qua c'è anche il relè lui stesso in automatico al raggiungimento della tensione massima a 12 volt che poi andrai a regolare tu staccherai il relè e la batteria non sarà più in carica quando la batteria inizierà a scaricarsi questo relè si chiuderà e farà entrare l'alimentazione qui per ricaricarti è la tua batteria il negativo è comune ok il negativo in comune questo con questo sono in comune per questo il ponte va fatto eventualmente se serve solo da qui ok perciò la batteria carica solo da questi due poli da questi due poli scarica ok potevano ovviamente farla anche diversamente al posto di fare sia questo che quello comunque va bene l'hanno studiato così va benissimo ragazzi come visto con questa semplice semplicissima soluzione potrai andare a realizzare il tuo ups artigianale ragazzi qui ti fanno vedere un altro esempio un alimentatore da rete 220 volt 12 volt che alimenta qui bene qui c'è sempre la nostra uscita eccola qui lo ad carico qui stavolta hanno messo un caricabatterie a parte il positivo o meglio la fase eccola qui è stata interrotta dal relè quando servirà caricare la batteria potrai usare questi cavi che andranno direttamente a caricarti la batteria quando la batteria è carica al massimo ripeto questo si apre e il circuito non funziona se va a interrompersi la 230 volt qui non arriva nulla e la batteria si abilita ragazzi come avete visto una genialata assurda tramite i trimmer andrete a fare i vari settaggi per esempio da che tensione minima deve attaccare il relè in mancanza di rete e per esempio se scende sotto a 10 volt se scende sotto ai 5 volt se scende sotto a 11,9 volt ecco in base a questo lui andrà a fare la regolazione in più anche qui a che livello di tensione dovrà attaccare questo relè cioè quando la batteria è scarica e a 11 volt attacca il caricabatterie oppure a 9 volt attacca il caricabatterie tutto ragazzi ovviamente sta in base a che batteria utilizzi se utilizzi una batteria al piombo determinato valore e voltaggio batteria al litio 3s per esempio mantenendo un 12 volt e andrai a 12,6 massimo 9 volt minimo perciò tutto sta in base ai vari voltaggi cambia anche questo se deve essere per una batteria al piombo serve un 12 volt dedicato se devi caricare una batteria al litio e serve un caricabatterie per batteria al litio ciò che è da interrompere solido esclusivamente l'ingresso così il caricabatterie resterà sempre disconnesso e sempre spento ragazzi per questo video velocissimo è tutto io ti ringrazio per la visione ci aggiorniamo al prossimo video con un nuovo prodotto sempre molto interessante ciao ragazzi iscrivetevi al canale iscrivetevi anche al canale telegram fox tech best shopping ciao belli e al prossimo video a tutti